Siracusa 22esimo premio letterario nazionale Elio Vittorini, già in marcia l'edizione 2023 con tante novità. A ripresa marciare la macchina organizzativa del premio letterario nazionale Elio Vittorini è giunto alla 22esima edizione ed è il premio per l'editoria indipendente Arnaldo Lombardi alla sua quarta edizione. La manifestazione è promossa dall'Associazione Culturale Vittorini Quasimodo e dall'Assessorato alla Cultura della città di Siracusa in collaborazione con la Fondazione INDA. Diverse le novità introdotte a partire da quest'anno, a cominciare dalla previsione di due premi in denaro anche per i finalisti non vincitori. Inoltre, al voto espresso dalla Commissione di valutazione si sommerà, oltre a quella del Comitato studentesco di lettura, anche quello del Circolo dei Lettori. Per il premio nazionale letterario Elio Vittorini è destinato a un'opera di narrativa pubblicata dal mese di aprile 2022 al mese di marzo 2023 e il termine assegnato alle case editrici per la presentazione delle opere da sottoporre al vaglio della Commissione giudicatrice e scadrà il 30 aprile, farà fede il timbro postale. Possono partecipare al premio opere di autori italiani viventi e non esordienti. La Commissione giudicatrice, preseduta dal professor Antonio Di Grado, selezionerà entro il prossimo mese di giugno tre opere finaliste, tra le quali verrà successivamente individuata quella vincitrice. Oltre al Comitato studentesco di lettura, da quest'anno sarà attivo anche un circolo di lettori individuato in collaborazione con la società Dante Alighieri e fra gli appassionati della lettura. Sia il Comitato sia il circolo esprimeranno fra le tre opere finaliste ciascuno un proprio voto che andrà a sommarsi a quelle della Commissione giudicatrice. Al vincitore del premio Vittorini andrà un assegno di 3.000 euro, mentre ai due finalisti non vincitori andrà un assegno di 1.000 euro ciascuno. Anche quest'anno al premio nazionale Elio Vittorini è affiancato il premio per l'editoria indipendente Arnaldo Lombardi in omaggio all'editore seracusano di adozione che fu tra gli ideatori del premio Vittorini destinato alle case editrici indipendenti che abbiano un catalogo di almeno 20 pubblicazioni di carattere storico e letterario.